In questi ultimi giorni avete visto qua su YouTube Italia un pullulare di video story time in cui ogni youtuber vi raccontava la propria esperienza a Ciao Darwin e siccome io non sono meno degli altri oggi vi farò un mio story time unpopular opinion in cui vi racconterò come mai io non ho partecipato alla puntata web contro tv Ciao ragazzi ragazzi eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video e oggi finalmente dopo mille milioni di tubissima eccoci con un video story time i miei preferiti allora dato che su Twitter siete impazziti venerdì sera e avete scritto tantissimo come mai io non fossi nella puntata di Ciao Darwin 2019 web star contro celebrity tv star eravate solo in tre o in quattro massimo comunque vi ringrazio tantissimo oggi vi voglio raccontare come mai io non sono apparso in puntata perché non ho partecipato iniziamo dall'inizissimo e poi vado anche a raccontare come mai secondo me ho fatto bene a non esserci ovviamente prima di iniziare per tutti quelli che non mi conoscono io sono istima 91 questo è il mio canale quindi se volete iscrivetevi mettete like a questo video e mi raccomando poi commentate perché io non vedo l'ora come sempre di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti ma partiamo dall'inizio se vi ricordate bene un mesetto fa io sono andato a Milano ad incontrare la ziva del tubo per fare un po' di video insieme per passare anche dei pomeriggi e delle sere insomma siamo amici quindi ci siamo incontrati e proprio in quell'occasione io mi sono fatto raccontare da lei tutta la sua esperienza perché come ben sapete la diva ha fatto anche lei una puntata di ciao darwin però quella di giuliette contro messaline che tra le altre cose è stata la più vista di tutta questa edizione e lei mi ha raccontato un pochino tutti i vari retroscene e mi ha detto ma cristiano ma perché te non ci sei andato e io gli ho detto ragazzi ragazzi gli ho detto amore della mia vita io praticamente mi sono dimenticato di fare il casting il provino perché a firenze c'era tipo il 12 o 13 febbraio me lo ero segnato e ho detto ci devo andare per forza perché quest'anno voglio partecipare perché mi piacerebbe tantissimo perché io già mi immagino lì alla prova del tempo o anche di coraggio a urlare impietrito o a fare la figura dell'idiota comunque è uno dei miei vari sogni nascosti del cassetto o esperienza che vorrei fare prima di morire insomma e io ho detto guarda l'unica cosa cioè non c'è stato un perché ma non ho fatto il provino perché me ne sono dimenticato me lo sono ricordato poi il giorno dopo e lei mi ha detto guarda io non ti garantisco niente però posso provare a chiamare il mio manager e posso sentire se magari c'è un posto libero per la prossima puntata che dovranno registrare tipo il 3 e il 4 maggio che te lo dico in anteprima tratta di web star e star della televisione quindi noi lo sapevamo già da un mese che c'era questa puntata e lei mi ha detto tra le altre cose so che hanno chiamato anche Gianmarco Zagatino ciao amorino e perché mi ha appena scritto no tutto quanto e mi ha detto che ha un po' paura insomma non sa per il genodrome tutte queste robe qui e se vuoi comunque sento e io gli ho detto guarda se non te costa niente nel senso puoi mandare anche un messaggio tanto al massimo mi dicano ma è troppo tardi affari tua vieni alla prossima edizione comunque grazie mille grazie mille e lei insomma manda questo messaggio gli da il mio instagram e praticamente ve la faccio molto breve io potevo andare a fare una specie di casting per arrivare a fare la puntata del web contro celebrities nel caso in cui qualcuno di loro dava forte insomma si ammalava o magari moriva in circostanze misteriose e quindi potevo andare a prendere il loro posto però cosa è successo se voi mi seguite sul mio canale cioè su questo quindi iscrivetevi attivate anche la campanella sapete che io il 30 aprile sono sceso a Roma per farmi il filler alle labbra e quindi poi i giorni seguenti che sono l'uno il due e il tre maggio avevo delle labbra così tutte lividose vi erano di lividi e quindi quando poi hanno registrato ciao darwin il due no il tre il quattro maggio io ovviamente assolutissimamente non posso venire in televisione in queste condizioni e quindi ho lasciato poi perdere e ho pensato vabbè magari se faranno in futuro altre edizioni questa volta non me la farò scappare devo partecipare ma questo in pratica è stato il motivo principale per il quale voi non mi avete visto in puntata per il quale si dice per il quale o per cui insomma voi non mi avete visto nella puntata web star contro television star principalmente per questo motivo perché mi sono rifatto le labbra e quindi ero così insomma tutto così e non mi volevo mostrare in tv soprattutto non volevo fare il debutto in televisione così come un mostro di Loch Ness dato che come voi ben sapete io non ci sono mai stato in tv ma ci sono stato due volte la prima quando ho fatto la social room dell'edizione del GF VIP penso la primissima o la seconda ma mi hanno inquadrato tipo 10 15 secondi e la seconda per l'isole famosi quando ero in social room in radio 105 ma lì addirittura non mi hanno nemmeno inquadrato quindi non si può dire che sono stati dei debutti televisivi insomma ma adesso passiamo alle mie considerazioni personali riguardanti quest'ultima puntata che è andata in onda è perché secondo me alla fine ho fatto bene a non partecipare e quindi è stata una manna d'arcelo lo scegliere di rifarmi le labbra invece che partecipare a questa puntata perché principalmente sta tutto nella popolarità sta tutto in quello che avrei fatto o come sarei passato perché come ben sapete già io quando parlai con la diva del tubo riguardante questa puntata le avevo un po' detto Alisha ve lo può confermare e gli avevo detto guarda Alisha io accetto anche molto volentieri nel caso dovessero chiamarmi però sono un po' in dubbio perché siccome è una puntatona con 100 web star e 100 personaggi famosi cioè 50 e 50 dovrebbero essere però con 100 persone magari molto più famose di me ho paura che magari mi chiamino lì per fare la bella statuina e poi non potrò partecipare a puntate delle edizioni dopo e magari fare cose che mi piacerebbe fare che poi ovviamente non è che se te cioè se io youtuber di 300.000 follower vado andavo alla puntata del gay pride magari mi facevano fare qualcosa quello non si può ma sapere però è anche vero che ho molte più probabilità di essere inquadrato magari di fare qualcosa qualche prova in una puntata in cui ci sono tante persone comuni e con pochi follower che in una puntata che è proprio incentrata su persone con milioni e milioni di follower tant'è vero che io la puntata non l'ho vista in diretta ma l'ho vista poi una volta tornato a casa perché ero uscito con amici me la sono riguardata e ho detto hanno addirittura tagliato l'intervento di Gianmarco Zagato dato che lui come ben sapete un milione di follower hanno tagliato l'intervento del signor distruggere lì come si chiama quello che ha la pagina in facebook delle mamme pancine di cui ho preso qualche screenshot quando vi ho fatto la posta del cuore mamma pancina edition insomma e la prova di coraggio l'ha fatta la bonus di avanti un altro che ok hai tantissimi follower su instagram ma che web star sei se sei in televisione a fare un programma quindi anche lì non ho capito il viaggio del tempo l'ha fatto un ragazzo che io personalmente non conosco ma insomma diciamo che tutta la puntata è stata incentrata sullo screditare possiamo dire chi è che mi scrive oh sto parlando della diva del tubo e la diva del tubo mi scrive adoro ciao ali ti amo sei nel mio video andate a seguire anche lei tra le altre cose insomma stavo dicendo che tutta la puntata secondo me è incentrata sullo screditare un po' il web e insomma non mi è piaciuta molto non mi sono piaciuti vari toni non mi sono piaciuti anche alcune persone che facevano parte della mia categoria non mi sono piaciute alcune battute e quindi ho detto mentre guardavo la puntata meno male che culo non ho partecipato che fortuna mi sono rifatto le labbra quei giorni che fortuna mi sono scordato di fare il casting perché boh avrei preferito fare per esempio la puntata del gay pride quello sì un esempio su tutti però quella del web diciamo diciamola a tutti ragazzi noi del web non tutti ma molti aspirano a fare qualcosa in televisione e se io dovessi andare a fare un programma in televisione lo vorrei sfruttare per un mio tornaconto perché è vero che la televisione chiama quelli del web per sfruttare il loro pubblico e sfruttare la loro immagine e il loro personaggio ma a questo punto allora anch'io se dovessi andare in televisione voglio sfruttare il potere della televisione per avere un ritorno non tanto economico ma di visibilità di follower, di iscritti per farmi conoscere a più persone possibili e quindi se io avessi partecipato a questa puntata web contro star della tv di Ciao Darwin questo riscontro non ci sarebbe stato perché appunto sicuramente al 99% avrei fatto la bella statuina come hanno fatto tantissime altre persone mie amiche e non di YouTube con com'è successo appunto quindi detto questo dico che comunque mi piacerebbe magari io spero che facciano una nuova edizione il prossimo anno magari tra due insomma prima o poi la devono rifare dato che comunque Ciao Darwin penso che sia stato il programma più visto di tutto l'anno della rete mediaset insieme a C'è posta per te quindi sarebbero scemi a non rifarlo tutto sta a Paolo Bonolis se lui ha voglia di rifarlo lo rifarà e allora a questo punto io il prossimo anno o quando sarà farò il casting e devo assolutissimamente fare una puntata ragazzi perché cioè ma chi è meglio di me a fare la macchina del tempo una prova di coraggio nessuno nessuno e quindi noissima 91 no party adesso ragazzi ragazzi so che è un argomento trito e ritrito perché come vi ho già detto in inizio video ne hanno parlato in tantissimi questa settimana però se avete voglia di scrivermi un po' come avete trovato questa puntata voi da casa me lo potete scrivere qua sotto tramite commento e se magari siete d'accordo con il mio ragionamento scrivetemelo sempre qua sotto tramite commento dato che poi io me li vado a leggere tutti metto i cuoricini vado a commentare e non vedo l'ora soprattutto di sapere la vostra opinione questo story time so che dura molto meno di tutti gli altri a cui siete abituati però ripeto è un argomento trito e ritrito quindi non volevo farci un video di mezz'ora e niente il video finisce qua mettete like commentate iscrivetevi andatemi a seguire anche su instagram noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao